Ciao a tutti! Eccoci, nuovo video aggiornamento dell'agenda di viaggio. Vi faccio vedere che cosa ho combinato andando in vacanza, stando in vacanza a Cervia. Allora, eravamo arrivati qua, avevo fatto il divisorio delle vacanze 2017, se ve lo siete perso ve lo lascio nel pallino. Ed eccoci qua, prima di partire ho realizzato questa lista con scritto cose da portare, mi sono fatta una serie di punti di cose assolutamente utili che dovevo portare e man mano che le portavo, zoom, che le mettevo in borsa, coloravo il quadratino. Eh, che organizzazione! Poi ho messo sopra e sotto questi washi tape, questo qua dello shopping perché c'era qualcosa che mancava e dovevamo acquistare, e questa qua sotto che ho trovato dei cinesi sempre, che ho scritto Happy Summer, era un set da tre da un euro ed era perfetto per questo periodo vacanziero. Poi ho preso, ho messo questi due sticker che ho trovato sul libretto 100% sticker speciale vacanze che vi faccio vedere a fine video, se non l'avete mai visto, l'ho acquistato su Amazon ed è perfetto per l'agenda di viaggio perché ci sono sticker per ogni viaggio che si fa e quindi niente, tipo qua c'è la bambolina che sta preparando le valigie e qui c'è scritto Viva la vacanza e stiamo partendo, una cosa così. Allora, il primo giorno di vacanze, siamo stati al Giapponese e al McDonald's, abbiamo fatto un tour, solitamente andiamo all'Ulucanit e poi ci fermiamo al McDonald's a prendere il dolce. Poi ho trovato sempre dal libretto questi due sticker bellissimi, uno con il trolley e uno con la bambina, con addosso uno zaino. Poi ho messo i mitici gattini, quei pesciolini, non potevano mancare e questa parte qua di sopra che ho scritto I love traveling, sempre parte del set da tre. E qui finalmente siamo arrivati, il primo giorno di vacanza a Cervia, ho messo il bigliettino dell'albergo, era fatto così, io l'ho semplicemente incollato, sopra quei altri washi tape con i gatti, io ho i gatti quindi, li ho messi un po' dappertutto, sono dei gatti in delle bustine, guardate che carine, era troppo carino. E poi ho messo questi due sticker del set che avevano fatto alla Lidl, delle sirene, c'erano sirene, castelli tritoni, robe così, e c'erano appunto le sirene così e le sirene glitterate, dopo ve lo faccio vedere. E sotto qua sempre parte del set da tre che ho scritto I love for. Eravamo appena arrivati in hotel e ho fatto delle foto con la Istax Mini 70, che le trovo più simpatiche, soprattutto fermo il momento e se il telefono si dovesse bruciare, io comunque ho le mie fotine sull'agenda. Qua c'è la parte glitterata, si vede, sempre dello stesso set, c'era la parte glitterata, sempre washi tape, questo di Tiger, questo di Lidl, mi piaceva l'accoppiata di colore, questo qua invece è uno sticker che ho preso su Aliexpress, e questa qua è una nostra foto stampata con la stampantina Polaroid Zip, praticamente si fa la foto dal telefono e si stampa, si porta dietro questa stampantina e si stampa la foto che abbiamo fatto dal telefono alla stampante. Poi, sempre parte del secondo giorno, ancora gatti, non potevano mancare, il biglietto da visita e lo scontrino, io ho tenuto un po' di scontrini delle cose che abbiamo comprato, che abbiamo visitato, i biglietti da visita delle cose che abbiamo comprato e visitato, e questa qua era la mitica casereccia dove abbiamo mangiato un sacco di piadine e chi più ne metta, troppo buona, e niente, quindi l'ho dovuta immortalare. Poi, terzo giorno, siamo stati ascesi l'atico e questa qua era ancora un set di foto, quelle vecchie che avevo preso su Aliexpress, queste qua hanno già il contorno decorato, questo qua era il set di Winnie Pooh, infatti c'è i.o. e mentre queste qua dopo sono le classiche fotine, fotine, che vendono con la Instax Mini, che si trovano anche in Media World, e hanno il contorno bianco, poi su Aliexpress vendono questi fantastici sticker da incollare per decorare il contorno della foto e non lasciarla totalmente bianca, anche qui sticker di Aliexpress, come se non ci fossero domani, washi tape dei cinesi, washi tape dei cinesi, poi, 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 altra serie di foto sempre di cesenatico, vedete, le ho, le ho proprio decorati con questi, con questi sticker per le foto, appunto, della Instax, al centro ho messo gli sticker di Tiger, Aliexpress, 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 praticamente io prima di partire mi sono preparata un po' di fogli con i washi tape già messi, e non sono bastati, poi, altra serie di foto, la mitica Pia di Larda, vediamo se riesco a farvi vedere questa foto, troppo carina, mamma mia che mangiata di piadine, poi non contenta, super gelato, che foto, perché era enorme, e vabbè, eravamo in vacanza, ci stava, anche qui, washi tape dei cinesi e della Lidl, sticker sempre di Aliexpress, Poi, altro giorno, siamo stati a Rimini, ho attaccato qua uno sticker di Tiger, mitico scontrino della gelateria, ho messo anche un gelatino, e una serie di foto, appunto, di Rimini, sempre con sticker di, anche questi qua sono del libretto 100% sticker, mentre questi qua sono quelli di Tiger, e poi, ovviamente, i washi di Aliexpress, non potevano mancare, poi siamo stati sempre Rimini, il Tempio Malatestiano, la rotonda, sì, la rotonda, la ruota panoramica sul lungomare, un'altra serie di sticker che ho incollato, sempre Aliexpress, Aliexpress, io Aliexpress non so farne a meno, ma no, ma dai, ma sul serio, e, niente, questa è la decorazione, qua era un momento in cui stavo, appunto, facendo il diario, si vedono le mutande, e mi ha fatto la foto mentre stavo scrivendo, qui, invece, eravamo stati a un ristorante, e quindi ho messo qua il mitico scontrino con cosa abbiamo comprato, mangiato, e qui, gita a San Marino, gita a San Marino, non potevano mancare una miriade di foto, ho trovato molto carino questa scritta Summer di Tiger, mentre questi qua li ho sempre dal libretto 100% sticker, questo washi che è stupendo, guardate che bello, con i gatti, troppo bello, e queste sono tutte le foto che abbiamo fatto, quelle senza cornice sono stampate con la Polaroid Zip, mentre quelle con la cornice sono fatte con la Instax, Instax Mini 70, però c'è anche la Mini 8, insomma, guardate, la resa è praticamente uguale, perché anche le foto, i rayfield delle foto sono uguali, sempre continuiamo con le foto di San Marino, questo washi l'ho trovato al mare, in un negozietto a un euro, quindi l'ho comprato, anche solo come ricordo, e qui era una mitica foto, che ha fatto mio marito, nel posto dove si siamo fermati a mangiare, lì a San Marino, e mi ha detto, oh dai, comprameli, che lei lo regaliamo a tua mamma, qui c'è tutto lo scontrino, che cosa abbiamo mangiato, e qui eravamo appunto al ristorante, qui e qui, mentre aspettavamo il pranzo, poi ho incollato qua l'ingresso, per visitare i due musei di San Marino, non hanno dato spese, perché hanno stampato proprio, il biglietto era proprio questa tessera qua di plastica, e ne avevamo una a testa, poi, ultimo giorno, a Cervia, siamo stati a Ravenna, Ravenna, ho incollato in questo modo, la mappa di Ravenna, e l'ho decorata così, in modo che quando resta chiusa, è carina, e ci ho messo sopra questo sticker, che ho preso dal libro, dei 100% sticker, mentre questo qua, questi qua li ho fatti io, con il punch, con i perforatori, perché cosa succede? Ve lo spiego subito, quando andate ad incollare questa parte qua, la cornicetta, avete anche la parte centrale adesiva, quando si stacca, vi resta questa parte qua adesiva, e come se fosse un piccolo foglietto sticker, con questa fantasia, quindi li ho tenuti tutti, li ho perforati, e ho fatto questi cuoricini, vedete? Molto carini. Poi, sempre a Ravenna, questa parte qua, allora, questi qua sono i washi, nuovi di Tiger, di questo mese, e poi abbiamo stampato, queste foto, questa qua è un'app che c'è sul cellulare, che ha sul cellulare mio marito, dove praticamente, con la fotocamera posteriore, fa la foto al monumento, la fotocamera anteriore, fa la foto a te, che stai facendo la foto, era molto carina, e l'ha stampata, proprio fatta così, altre foto, nei monumenti, washi di Lidl, e questo qua, sempre di libretto, 100% stiche, poi, ultima sera a Cervia, siamo stati al museo, delle sculture di sabbia, e una foto qua, un collage di foto dal mare, sempre fatte con un'app del cellulare, e poi qua, una macchinina, perché stavamo andando a Venezia. Arrivati a Venezia, il mitico biglietto, del vaporetto, bambolina col trolley, non poteva mancare, ce ne sono tantissime, di queste bamboline col trolley, ora ve li faccio vedere, il mitico spritz, preso il primo giorno, troppo buona, andiamo sempre nel solito posto, è proprio un piccolo bar, un piccolo bar di gastronomia, ma piccolino, e ci vanno tutti i veneziani locali, quindi, yeah, poi, questo qua, è il giorno dopo, eravamo a Murano, e questi qua, sono dei gattini, che ho tagliato sempre con il punch, sempre ricavati dal centro, di queste mascherine, da questa parte, altra serie di foto, sempre fatte a Murano, alcune appunto con la Istax, alcune con la Polaroid Zip, qua eravamo all'All Wild West, e poi ho fatto questi cuoricini, sempre con il punch, e questa parte qua, che sono dei washi tape, proprio fatti così, con i brillantini, troppo carini, e li ho incollati un po' qua, un po' là, un po' qui, un po' qui, un po' qui, qui siamo a Rialto, sul ponte di Rialto, da sotto e da sopra, e poi un'altra serie di sticker, sempre presi da Aliexpress, poi, mitica, mitica parte di Venezia segreta, dove mi hanno fatto girare, come una pazza, per tutta Venezia, con 40 gradi all'ombra, quindi la libreria acqua alta, qui una serie di gattini, mancabili, su, questa qui, è la pietra, dove è caduta la testa, guardate il video, che vi lascio nel pallino, per capire meglio, che cos'è tutte queste cose, particolari, e qui ho fatto, questa decorazione, sempre con, i ritagli, delle mascherine, e con i punch, ho tagliato qua, e ho incollato, un po' di tulipani, e i gattini, ed ecco qua, un'altra serie, infinita, di foto, fatte a Venezia, a piazza San Marco, ci siamo sbizzarriti, ultimo giorno a Venezia, siamo stati da Pandora, eh, l'ho dovuto scriverlo, l'ultima sera a Venezia, l'ultimo giorno, era quello lì, di San Marco, i livelli dell'acqua alta, che anche qui, mi ha fatto girare, come una pazza, 40 gradi all'ombra, lo stavo strozzando, e poi, ovviamente, un'altra serie di sticker, qui sempre del libretto, e questo qua, sempre di Aliexpress, e da questa parte qua, lui, tutto soddisfatto, che aveva trovato, il suo, il suo pezzo di pietra, con su scritti, i livelli dell'acqua alta, quindi ho dovuto fargli, la foto, questa, questa foto qua, che è, un'installazione, per la Biennale, sul canale grande, e quindi, fotografata, come i cinesi, andiamo a leggere, tit tit tit, forse si è fatto, allora, col diario di viaggio, ho finito, adesso vi faccio vedere, gli sticker, di quel libretto fantastico, di questo libretto fantastico, che avevo trovato, енное, e, altra, annihilato, non viaggio,